Musica Luca Lotti era un grandissimo gol Rumero, mamma che gol Signor e signori ingresso in campo del 2 compagini terza giornata di campionato La FNCC, campioni in carica della Super 11, number 1 Contro i mitici del Pochomania E poi sistemano le squadre In orizzontale un applauso saluto andiamo a riprendere in diretta il tocco dei due capitani si prendiamo in diretta sceglie il capitano palla possiamo anche quindi chiudere il collegamento lasciamo la ripresa alla regia per la ripresa di questa bellissima partita che sarà interamente registrata e quindi verranno a registrare tutti i gruppi saluto da max e in bocca al lupo sia il pushmania che la fncc guarda come faccio guarda come faccio la batteria No, 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 no. Io mi trovo 19.57. 21.12. 21.12. 21.12. 24.36. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 27. 28. 28. 29. 28. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 13,40. 14,43. 15,40. 15,40. 15,40. 16,40. 17,40. 17,40. 17,40. 19,40. 19,40. 22,29. 22,29. 18,40. 18,40. 19,40. 19,40. 19,40. 20,40. 20,40.